si parte fra pochi minuti ci vediamo durante il percorso perché arriviamo alle torri di san marino e quello che invece vedete a nostre spalle sono le tre cime di la varedo partiti da mulazzano 10 chilometri percorsi e conquistato il castello di faitano bel tratto in salita e adesso ci aspetta il bello però quello di entrare nella città dove vi abbiamo portato oggi abbiamo seguito quel sentiero la si vede tutto alberato bellissimo che passa dal centro storico da san marino bassa e arriva fino al castello che va proprio sopra di noi lì potrebbe essere l'appenino tosco emiliano e invece dietro il palazzo du governo prima torre di san marino è momento di ricominciare a ringraziare gli sponsor prima di tutti oxyburn in the house the first brand in italy that makes it comfortable questo è un casino molto tecnico e tanto dietro vediamo lo spettacolo che ci riserva la terza torre primo novembre fantastico bellissimo allora siamo partiti da mulazzano ancora nel comune di coreano quindi italia scesi a faitano per non farci mancare la salita e abbiamo preso per faitano quindi castello di faitano e siamo venuti super direttissima direzione tre torri questa è la terza torre abbiamo fatto 16 km più o meno ci tocca ritorno probabilmente non faremo la stessa strada ma passeremo per domagnano e quindi vedremo anche il castello di domagnano noi iniziamo a correre tornare e tornare giù e poi qualcosa che succede succederà oh 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 oh